La crisi economica e sociale ha colpito anche realtà più piccole e virtuose come quella di Bronte dove ormai giornalmente si respira il disagio di un momento non certo favorevole per l'occupazione e questo è uno dei temi affrontati oggi dal primo cittadino brontese, il senatore Pino Firarello durante la visita del presidente del senato Renato Schifani. Noi anche se abbiamo cercato di gestire come meglio è stato possibile, riteniamo che Bronte è il paese più penalizzato d'Italia perché nessun'altra realtà si è ritrovata a dover perdere 500 posti di lavoro negli ultimi due anni. La crisi del tessere praticamente ha messo in ginocchio questo paese. Non solo dal punto di vista economico, ma dopo 30 anni di lavoro in questo settore si era formata una mentalità, una capacità industriale con delle persone abituate a prendere sì lo stipendio a fine mese ma lavorando e producendo dei capi che sono andati in tutto il mondo. Evidentemente la crisi generale che si vive in Italia e che si vive in Sicilia a Bronte è aggravata da questo tipo di realtà. Allora mi è sembrato opportuno far conoscere questa realtà che grazie anche al lavoro fatto dal sindacato è stato possibile dare delle risposte con gli ammortizzatori sociali che comunque vengono meno. Pertanto sappiamo che ci sono delle difficoltà gravissime perché le persone non preparate ad una situazione così si trovano in volte difficoltà per i mutui che ognuno ha contratto. Secondo il prefetto di Catania Francesca Cannizzo il problema occupazionale, seppur diffuso in tutta Italia si avverte maggiormente in un centro più ridimensionato come quello di Bronte. Si tratta appunto di persone che contemporaneamente perdono il lavoro Oltre ai numeri secchi di coloro che sono addetti va vista poi tutta la ricaduta sull'indotto quindi si tratta di una realtà che non so quanto sia riscontrabile in altre realtà appunto con questa popolazione sicché devo dire che è elemento di grande attenzione e di grande preoccupazione perché la perdita del lavoro significa perdita di serenità per le famiglie e significa anche impegno da parte di coloro che hanno la gestione per la cosa pubblica per individuare con tutte le energie, con tutta la rete che è possibile mettere in campo soluzioni alternative pur nella consapevolezza del difficile momento storico che stiamo vivendo in cui non è così scontato, così semplice riuscire a riconvertire un settore peraltro devo dire fiorentissimo rinomato non solo in Sicilia ma in tutta Italia con un export di grande interesse per cui fra i mille problemi che questa provincia ha e non sono pochi sicuramente quello di Bronte ha un aspetto che non è di secondaria importanza. Grazie a tutti.